E come anticipato nelle edizioni di ieri del video Sicilia News, torniamo a parlare della sedicenne alcamese Maria Piera Calandra, una delle 28 giovani insignite dal capo dello Stato Sergio Mattarella dell'attestato di Alfiera della Repubblica Italia del premio Un segno tangibile della continuità del far bene del volontariato che è stato rilanciato in occasione della cerimonia di inaugurazione di Padova Capitale Europea del volontariato 2020. Ascoltiamo dunque le interviste Maria Piera Calandra e da Fabio Ferrara, presidente della Croce Rossa del Comitato Alcamese per voi. Alfiere della Repubblica Italiana. Una cosa molto emozionante, inaspettata perché non me l'aspettavo proprio completamente, ma è una nomina molto importante. Sono belle le motivazioni che abbiamo letto, cioè ti sei spesa, è chiaro che ti spendi per il genere umano, nelle difficoltà, ma soprattutto per i più vulnerabili. Ho sempre avuto questa passione di aiutare le persone più vulnerabili, pure prima di entrare in Croce Rossa, ho scoperto che c'era questo volontariato che faceva questa cosa e quindi ho detto proviamo, entriamo e vediamo come va. La spinta per spenderti per gli altri da cosa arriva? Secondo me è una cosa giusta aiutare le persone più in difficoltà e quindi vedendo una persona in difficoltà l'aiuto, non ci penso su tante volte, proprio direttamente lo faccio. Raccontaci come è avvenuta la comunicazione. Mi trovavo a scuola, ero all'ultima ora e mi è arrivata una chiamata dal vicepresidente del nostro comitato, dove con uno scherzo mi diceva che avevo combinato qualcosa, io non sapevo cosa fosse. Poi sono andata a leggere tutti i vari commenti e le cose, visto che avevo avuto questa nomina e sono entrata ancora di più in ansia. Già ero in ansia, sono entrata ancora di più in ansia. Ecco, questa cadificazione hai pensato a chi dedicarla? La dedico a tutti, però principalmente a tutte le persone che mi hanno spinto a seguire questo cammino, quindi ad entrare in Crocea Rossa e tutte cose, quindi principalmente ai miei genitori e ai miei amici. Però ovviamente anche alla Crocea Rossa, perché è grazie a loro che ho avuto questo merito e quindi tutto, tutti, quindi presidente, vicepresidente, tutti. Quale rappresenta per te la Crocea Rossa? Una seconda famiglia. Io in questo anno e mezzo ho passato più tempo qua che con la mia famiglia. Infatti mio padre l'ho spinto ad entrare qua, anche perché o entrava e mi vedeva oppure non mi vedeva per mesi sani. Avete creato una famiglia e questa ragazza, questa sedicenne, ha dedicato a voi questa gratificazione. Si è messa in gioco già da giovanissima, in Crocea Rossa sta raggiungendo grandi risultati, è un gancio traino per tutti i suoi coetanei. Ha ricevuto una beneficenza importantissima, quella di Alfieri della Repubblica, quindi è un peso, ma un bel peso da portare sicuramente e che deve essere di monito e di stimolo per tutti i suoi coetanei che decideranno, come lei e tanti suoi colleghi, di mettere in gioco il proprio tempo per i più vulnerabili, così da poter essere sempre a disposizione di tutti coloro che sotto l'emblema di Crocea Rossa vedono un aiuto e una speranza in questo periodo così buio per tutti. La pandemia ha fatto uscire il lato peggiore degli esseri umani, ma in questo contesto in chi si prodiga per gli altri ha fatto uscire la parte migliore di noi stessi. Maria Piera ne è l'emblema, ne è il simbolo, una ragazzina, anzi una piccola grande donna che mette a disposizione il proprio tempo, anziché andare a giocare, come oggi con il cellulare, con la tecnologia, quindi distrarsi, decide di mettersi in gioco per gli altri, rischiando anche la propria incolunità. Come hanno fatto a sapere che questa ragazza aveva una marcia in più? Sono stato io insieme al Consiglio Direttivo, abbiamo deciso di segnalare i nostri giovani più rampanti e disponibili, perché sono davvero loro, le persone su cui puntiamo, i volontari su cui puntiamo, che sono il nostro futuro, la nostra forza, e che ci spingono sempre a fare meglio. Io sono veramente contento e soddisfatto che Maria Piera, ma tutto il gruppo giovani del Comitato di Alcamo sia così attivo e si metta a disposizione di tutti.